Grazie, un applauso a tutti i tecnici, gli autori, la regia, la redazione, tutti, i truccatori, la Patti, i Zanni, la Ester, la Bionchini, i costumisti, le Sartoti. Grazie. Grazie, un applauso a tutti i cellulari governativi. Dopo aver visto le istituzioni UE, non è sicura. Dopo aver visto all'opera questi rimba minchia, hanno deciso di chiuderlo. Sto scherzando, naturalmente non è colpa dei rimba minchia, è perché non è sicura. Essendo un'app cinese c'è il rischio che potrebbero rubarci i dati sensibili. Che a me sembra incredibile, no? Cioè, TikTok nasce come un'app per ragazzini che condividono minchiate. E io pensavo, ma se vuoi rubare i dati sensibili di un paese, ma inventati un'app, che ne so, per i banchieri, non per i ragazzini. Non la chiami TikTok, la chiami PIN e PUC. Entri nel cellulare di Draghi e della Lagarde e affossi un continente, no? Quindi, panico, tra tutti i politici occidentali, è il più terrorizzato, il più spaventato dall'eventuale blocco di TikTok. E' quel politico poverino che ci era appena entrato su TikTok. TikTok verso la chiusura in Italia, De Luca, stiamo correndo un grave pericolo. Tra l'altro, TikTok è cinese e De Luca si ispira molto ai cinesi. Il suo idolo è Xi Jinping. E guarda, lo vedete? Che oggi, tra l'altro, non avendo la Schlein, tra, come dire, le cose che ruotano, ha inaugurato il suo terzo mandato. Xi Jinping, rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese, è il terzo mandato. Ma gli americani li vogliono togliere TikTok e la Schlein, che guarda caso, ha il passaporto americano, gli vuole togliere il terzo mandato. E quindi lui è molto arrabbiato. Ma c'è una cosa che lo manda su tutte le furie. Più della Schlein, più degli americani, De Luca ce l'ha a morte, con la cucina stellata. Perché quando gli presentano una pastiera napoletana destrutturata, o meglio, come dice lui, di sujata. Impazzisci. Uah, na mano. Uah.